Grande successo lunedì sera per la prima Caltanissetta al Teatro Margherita dello spettacolo Salvami. Oggi, mercoledì, lo spettacolo va in scena per gli studenti elementari, medie e superiori e nei prossimi giorni lo spettacolo girerà tutta la Sicilia, prima San Cataldo, poi Canicattie e via via altre città siciliane. Parliamo dell'importanza di questo spettacolo e delle tue coreografie soprattutto. Allora, l'importanza di questo spettacolo è basato sul sociale, quindi raccontiamo con la danza tutto quello che riguarda il sociale da tutti i vari sfaccettature del sociale, insomma, e le coreografie sono basate su quello, però non sono difficili da interpretare perché comunque il fatto che c'è un racconto prima fa in modo che chi guarda la danza riesce anche a captare i movimenti e si medesima, si fa coinvolgere dalle parole dell'attore. Abbiamo affrontato temi importanti che partono dall'immigrazione, dalla disabilità e soprattutto anche al principio dell'inclusione sociale. Io sono molto soddisfatto come presidente della cooperativa Etnos ma anche come parte di un gruppo di produttori eccezionali Ernesto Trapanese e Eugenio Bonaffini sono sicuramente dei punti di riferimento perché chiaramente loro sanno fare arte, sanno fare questo lavoro. Noi mettiamo soltanto il nostro ritorno alla comunità attraverso il nostro Sprar di Caltanissetta, infatti sono presenti anche i nostri minori e abbiamo voluto proprio raccontare attraverso l'arte quello che sono le emozioni che vivono le persone che fanno l'esperienza del viaggio della speranza e devo dire che è stato tutto eccezionale, davvero sono molto orgoglioso oggi di rappresentare un gruppo di professionisti. Quindi salvami innanzitutto a una struttura teatrale, la struttura teatrale del monologo, parla di Said, un uomo più o meno cinquantenne arrivato tanti anni fa in Italia dalla Libia. Quest'uomo nel corso di questi anni ha vissuto tutte le vicissitudini appunto della propria condizione di profugo. Quando partì dalla Libia c'era ancora il regime di Gheddafi e quindi gli toccò di scappare di notte con un barcone, con i genitori, in questa traversata persa i genitori e una volta arrivato qui in Italia fu affidato ad una comunità. E da lì, da quel momento in poi, lui racconta qual è tutta la sua vita. Alla fine scopriremo che si riesce anche a laureare in medicina, diventa medico e nel finale ci renderemo conto di come ha vissuto questa vita, ha condotto questa vita, anche alla luce della propria condizione di profugo e di disabile perché quando era lì in Libia si era accorto di avere questo problema, un problema di displasia alle anche. E quindi questa traversata in Italia, sebbene gli abbia fatto perdere i genitori, l'ho aiutato anche nel risolvere il problema della propria malattia.